Il sogno di Roseto finisce gara 5, vince la Libertas Livorno 81-74 e va in Serie 2 nonostante un palamaggetti gremito 4.400 tifosi a spingere la formazione di coach Franco Gramenzi partita bene 7-0 di parziale e poi controparziale di Livorno fino al break decisivo andiamo ad ascoltare le parole dei due coach e del presidente Ernesto Ciafardoni Chiaro Gramenzi che c'è tanto rammarico per come è finita questa serie però credo che due squadre avrebbero meritato entrambe la Serie A Sì, poi alla fine una vince, l'ho appena detto ai ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario di grandissima crescita per tutto l'anno e si arriva fino in fondo, arrivi alla quinta partita e tutto può accadere resta l'amarezza ma resta anche una grande stagione Eppure eravate partiti bene, 7-0 dopo neanche un minuto, time out subito per Livorno Sì, l'inizio è nulla in una partita di 40 minuti di questa intensità quindi reggere contro un avversario del genere per 40 minuti è stato sempre difficile l'abbiamo fatto per due volte vincendo e devo dire che è stato molto molto faticoso alla fine l'abbiamo pagato perché di fronte avevamo una squadra che è stata sicuramente meglio di noi Con percentuali dall'arco davvero importanti Sì, direi proprio di sì, nel momento difficile del break hanno fatto dei canesti davvero difficili sono stati molto bravi Coach, mi ricordo quando ci siamo visti qui lei aveva detto per queste partite chiedo personalità Al di là degli aspetti tecnici questa sera possiamo parlare del tiro da tre, possiamo parlare della difesa ma credo che Livorno abbia vinto con la sua personalità Sì, perché venire in questo posto con questa gente fantastica con tanti dei nostri contro una squadra fortissima e l'ho detto a Franco Gramenzi bisognava vincere con personalità non mi aspettavo una partita punto a punto, sono sincero l'ho detto a un caro amico oggi pomeriggio mi aspettavo che una delle due riuscisse a prendere il sopravvento siamo stati noi, siamo contenti Tra l'altro siete partiti 0-7 dopo pochi minuti, dopo un minuto Ho dovuto chiamare time out dopo un minuto e dieci che non è mia abitudine però se andavano via c'era rischio di non riprenderli più e siamo usciti credo con un 8-0 per noi 5-0 sicuro, forse 8-0 e quindi sintomo che la squadra c'era Le chiedo un'ultima cosa proviamoci a fare una lettura tecnica dove l'avete vinta tecnicamente? Secondo me l'abbiamo vinta perché rispetto ad altre partite siamo riusciti a muovere la palla contro la loro aggressività che a differenza di altre partite oggi è stata un'aggressività vera e siamo stati bravi a giocare uno contro uno e a trovare i tiri aperti cosa che in alcuni momenti delle altre quattro partite avevamo fatto fatica Presidente, non è finita come tutti speravano resta una grande festa di sport ma anche l'amarezza è chiaro che bisogna ringraziare il popolo rosetano perché è ritornato in massa merito anche dei nostri ragazzi loro si sono identificati nella nostra squadra però dispiace tanto dispiace tanto si è mancato questa sera un po' di lucidità forse un po' di fisicità loro hanno giocato veramente una grandissima partita onore a chi ha vinto grazie a tutti